Erano le 11 e 25 del 24 gennaio 2017. Terremoto e straordinarie nevicate avevano fiaccato l'intera provincia di Teramo. Esattamente cinque anni fa un elicottero si era levato in volo per recuperare uno sciatore ferito. Tra i componenti dell'equipaggio di soccorso c'era Davide De Carolis, un giovane volontario teramano, attivissimo anche durante la tragedia di Rigopiano. L'elicottero non giunse mai all'ospedale dell'Aquila, dove era diretto perché si infranse contro una montagna a causa della visibilità estremamente scarsa. Oggi, nella stessa precisa ora della morte di questo ragazzo eroe, l'amministrazione comunale di Teramo, su impulso del movimento scout Abruzzo, ha ufficialmente voluto inaugurare il parco fluviale della città a Davide. Una cerimonia toccante alla presenza di amici, genitori, istituzioni, studenti e colleghi del soccorso alpino. Chi era Davide? Lei che lo ha conosciuto bene. Prima di tutto un amico, un collega e una grandissima persona, una persona dall'animo buono, una persona che per quello che l'ho conosciuto io si è sempre speso per gli altri. L'ha fatto fino all'ultimo giorno, pochi giorni prima, come tutti sapete eravamo impegnati a Rigopiano e come tutti ha dato il suo contributo. Quindi una persona che manca, una persona che se ce ne fossero tante come lui sarebbe un mondo migliore. Davide era una persona splendida, speciale. Quando era ragazzo mise una cornacchia dall'ala ferita in accudimento perché potesse riprendere a volare, non aveva intenzione di tenerla nella gabbia perché per lui trattenere voleva dire chiudere le porte alla libertà e lui era sostanzialmente un uomo libero. Perché proprio il parco fluviale? Davide era l'emblema dell'amore per la natura, per la montagna. Quindi una brutta storia che per oggi stiamo a raccontare una bella storia di una persona che sicuramente ha lasciato un messaggio bellissimo di amore per l'ambiente e di amore per gli altri e quindi veramente siamo felicissimi di poter, di aver attivato questa procedura in titolazione del parco perché Davide era tutto questo, meriterebbe tanto ancora di più. Quindi non siamo felici di aver potuto regalare oggi un sorriso a Davide della sua famiglia.